Il modo in cui si muove, la sensazione che ti lascia. Tutto in uno spazzolino elettrico Oral-B è semplicemente rivoluzionario. La sua esclusiva testina, ispirata a quella dei dentisti, si muove in tre direzioni e rimuove fino al doppio della placca. Per una sensazione di pulizia come dal dentista, ogni giorno. Spazzolini elettrici Oral-B, una rivoluzione per l'igiene orale. Se lo provi, scommetti che non tornerai più indietro. Scopre per questo uo experience.it